ciao a tutti cari amici del mio viaggio a torino oggi ci facciamo una piccola passeggiata perché mi sto incamminando per andare in corso mediterraneo e quindi sto facendo un giro un po più di lungo proprio di proposito poi magari ve lo faccio vedere in un altro video mentre poi sarò proprio su questo corso e che tra l'altro era già da un bel po di tempo che volevo andare ma il punto è questo oggi ho deciso mentre faccio questa passeggiata di parlarvi un po di lavoro a torino dato che qualche settimana fa un signore che conosco da tanti anni che lui prima viveva in puglia e in pratica lui si è trasferito da poco a torino e mi ha detto ma possibile che a torino non c'è lavoro e io gli ho risposto non è che non c'è il lavoro il lavoro c'è quanto ne vuoi il problema è che non vogliono assumere questo è il problema infatti ci sono varie difficoltà nell'incontrare diciamo situazioni nuove per poter cercare lavoro quindi cosa significa che uno va all'agenzia e sperando che riesce a trovare qualcosa perché d'altronde al giorno d'oggi purtroppo si lavora solo con le agenzie interinale che si chiamano in somministrazione ma sempre la stessa cosa e poi cosa succede che alla fine fai tante domande ma tante volte non succede niente e i lavori purtroppo sono precari molto precari a volte ti chiamano anche con lavori a chiamata e cose così anche se a me sinceramente non piacciono i lavori a chiamata perché comunque non hai garanzie mi dice ma lo fai un po' un po' qui un po' lì tanto mi guardo in su che c'ho il colombo non vorrei che che molla qualcosa e e quindi cosa succede che loro adesso se ne stanno arrivando ultimamente non solo per poter così non so darti un lavoro però che ti pagano no adesso ultimamente stanno arrivando a chiedere lavori gratuiti e infatti io adesso cos'è già qualche mese che ogni tanto o mi telefonano oppure anche di persona se vi ricordate io sono andato a io lavoro ah se non avete visto la serie di io lavoro dedicata proprio questo diciamo tutti gli stand questa fiera o evento chiamatelo come volete in cui le persone si potevano andare lì a cercare lavoro che io ero andato con il mio amico manuel proprio per cercare di trovare qualcosa no perché purtroppo con questi contratti non si può avere una garanzia cioè non si riesce ad andare avanti come si vorrebbe e quando sono andato la alcuni anzi in realtà erano tutte donne che con cui ho parlato e una mi ha detto e poi ti chiamo la prossima settimana e non è stato vero un'altra invece ha detto ha avuto insomma ha detto un qualcosa che a me non mi è piaciuto per niente no mi fa e tanto puoi anche lavorare gratis tanto dice tanto sei a casa e che quale gratis gratis non si lavora cioè io ho detto una certa frase che vabbè qui non voglio ripetere certo era sempre pulita non c'era una parolaccia però non so se il termine va bene per le piattaforme comunque e non si lavora gratis se si lavora si lavora per lo stipendio per i contributi quindi capite che in realtà dove vado 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 di là e aspettate che verde un attimino c'è sua attenzione e quindi cosa succede che mi sono perso ah già insomma stavo dicendo che in realtà questa persona qui diceva di lavorare gratis ma è più di una persona ma non si può lavorare gratis c'è proprio una cosa che io non so ultimamente cosa veramente cosa gli ha preso a questi ma davvero pensano che le persone sono disposte a lavorare in questo modo non è per un ruolo che si lavora si lavora per i motivi per cui ho detto basta se non ci sono quei motivi lì cioè se non c'è non c'è denaro non e non c'è soprattutto anche i contributi è vero che adesso la pensione minima e vent'anni ma la vogliono portare a 25 anni e quindi essendo che la vogliono portare a 25 anni diventa sempre più difficile poterli raggiungere soprattutto con le persone che hanno pochi anni tipo io non ci arrivo neanche per avere la minima per farvi capire quindi oltre la disoccupazione c'è pure quello che se non fosse che ci sono i miei io adesso non sarei in queste cioè non potrei andare avanti insomma per fortuna la famiglia alle spalle però capite che a una certa età si cerca di fare in modo di sistemarsi per poter fare una vita normale cioè non è che devo fare la vita del riccone no basta avere non so uno stipendio giusto 1200 1500 giusto per riuscire a portare a casa il pane tutti i giorni per poter pagare le bollette in futuro c'è tutte queste cose qua non solo nel presente ovviamente e quindi cosa succede che questo è un bel problema quindi se tipo voi abitate tipo non so in altre regioni e vi hanno fatto un trasferimento a torino è un conto ma che voi volete venire magari a vivere a torino per cercare lavoro a meno che avete un certo tipo di profilo e sapete che potete trovare degli agganci oppure non lo so comunque qualcuno che vi può dare la possibilità ecco torino non è adatta a diciamo per cercare lavoro così di punto in bianco capite purtroppo questa è la triste realtà cosa che invece una volta non era così una volta io mi ricordo che si trovava molto più facilmente poi soprattutto se sei più giovani si hanno dei vantaggi che magari quando superi una certa soglia trovi poi insomma fai fatica a trovare lavoro ma io mi ricordo che una volta uscivo da un posto iniziavo subito da un altro cioè ma proprio già il giorno dopo sempre tramite agenzia poi vabbè sono riuscito ad essere assunto alla Thyssen Group che ve l'ho detto che sono un ex operario di quella famosa fabbrica dove è scoppiato l'incendio e lì avevo iniziato con ricordo con l'agenzia e poi sono passato con un contratto a tempo indeterminato un contratto che io non vedrò mai più nella mia vita per farvi capire ed è così cioè purtroppo se non ho l'aspettativa di venire a Torino per il lavoro è meglio che lasciate perdere e cercate qualche altra città perché qua proprio tabula rasa difficilissimo ma anche questo io lavoro ho fatto tanti colloqui per carità in realtà sono stati tre però in certi c'erano troppe code troppo lunghe quindi non ce l'ho fatta starci dietro però c'era questo fattore qua capite cioè non non era proprio cioè lì sembrava tutto bello tutto facile finalmente parlo con uno parlo con l'altro riesco a trovare lavoro magari proprio perché ci parlo di persona e non solo con tipo una candidatura fredda no se uno si candida e via poi adesso se non arrivano che ad esempio solo per le pulizie o lavapiatti vogliono due anni di esperienza se tu non hai due anni di esperienza allora in quel caso non vieni preso e mi dice ma come è possibile ma che ci vuole ci vuole infatti io l'ho detto all'agenzia lì ho detto ma cosa ci vuole a pulire e infatti mi ha detto e lo so infatti hai ragione non ci vuole niente però poi alla fine prendono sempre persone che conoscono loro e quello è il fatto e quindi è complicata la situazione allora vediamo un po' dove vado qua attraverso da questa parte adesso vediamo un po' intanto sto facendo questo giretto nel frattempo e vediamo un po' dove arriverò eh anzi facciamo così io stacco questo video io ne ho parlato un po' così la ruota libera come al solito e e vediamo un po' di fare magari questa parte qua non so se arriverò lì proprio in corso mediterraneo come vorrei fare può darsi adesso mi trovo in largotirreno e vediamo un po' eh così vi faccio vedere magari questa zona qua e magari giron solo da tutte queste parti qui non lo so stavo valutando vediamo se non riesco oggi magari lo faccio un altro giorno comunque ehm se non l'avete fatto ancora mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella lasciate un commento così per vedere un po' se possiamo fare una chiacchiera riguardo a questo argomento ehm sul lavoro a Torino e mi raccomando se vi è piaciuto condividete lì il video e poi niente ci vediamo nelle prossime avventure